Terre di Siena è il primo dei 28 ambiti della Toscana a mettere online il proprio portale. Il sito terredisiena.it offre informazioni sull'accoglienza turistica ed è realizzato per essere integrato dal punto di vista grafico ed editoriale con il sistema regionale. Toscana e Turismo è un binomio inscindibile e che vuole diventare sempre più forte. Questo portale è solo il primo dei 28 che verranno realizzati. Si tratta di un passo importante verso il futuro ma anche per essere competitivi nel presente. I 28 ambiti è un elemento di novità, è un metodo nuovo di raccontare per aggregazione con maggiore spessore le tante storie della Toscana. Il racconto passa attraverso il web, attraverso la comunicazione che la nostra agenzia può mettere a disposizione. I contenuti del portale sono in parte realizzati dalla redazione web interna all'ambito stesso e in parte includono i contenuti già disponibili nei siti turistici territoriali esistenti e nelle banche dati turistiche della Toscana. Un sito di destinazione che copre le informazioni per l'ultimo miglio è sicuramente molto utile e completa bene la richiesta da parte dei turisti di ricevere quante più informazioni possibili che le aiutino ad articolare la proposta regionale. Siena è all'avanguardia su questo tema, con loro stiamo lavorando già specificamente su alcuni prodotti come quello del bike ed altri. Abbiamo presentato la settimana scorsa il tema del wedding, il sito di destinazione ha esattamente questa funzione. Il sito, realizzato da Connectis Web, società pratese specializzata in tecnologie per il settore turistico, è diviso in diverse categorie, da arte e cultura fino a eventi o enogastronomia. Il portale ha il compito di informare e accogliere il turista, dando tutte le informazioni digitali per accogliere il visitatore nel momento dell'arrivo sulla destinazione. In particolare questo portale dà la possibilità di accedere a delle banche date di dettaglio per avere informazioni sul cosa fare, quindi tutti gli eventi, sul dove dormire, quindi tutte le strutture ricettive, sul dove mangiare, sui luoghi da visitare e sulle opportunità del cosa fare.